Cari lavoratrici e cari lavoratori, sono momenti molto difficili per l'Italia, per la nostra città, per la nostra città metropolitana. Vi voglio assicurare che per quanto mi riguarda la sindaco di Napoli, perché in questo competenze anche da un punto di vista di responsabilità della salute pubblica dei concittadini stiamo facendo il massimo, più del massimo, attenendoci ovviamente alle disposizioni nazionali, trattandosi di un'emergenza nazionale, però vi voglio anche dire che io sono molto grato a tutte le lavoratrici e i lavoratori della città metropolitana e delle aziende partecipate per il lavoro che state mettendo in campo con professionalità, abnegazione, passione e umanità. Dobbiamo continuare a lavorare con le precauzioni, con le cautele necessarie, con il senso di responsabilità. Favoriremo al massimo per quanto è possibile il lavoro da casa, il cosiddetto lavoro agile. Ovviamente comprendiamo tutti che alcune prestazioni lavorative, soprattutto connesse a servizi necessari, non si possono fare da casa, ma si possono adottare quelle cautele che ci consentono di essere tutti più tranquilli. Non bisogna avere panico, non ha senso. Responsabilità, precauzioni, solidarietà e anzi continuare una vita per quanto normale serve alla nostra collettività, serve a tutti noi per andare avanti. Supereremo questo momento difficile rimanendo uniti, ognuno di noi dando l'esempio di responsabilità, di cautela, di forza, di coraggio e di fratellanza. Davvero un caro saluto a tutti voi e a tutti voi e vinceremo anche questa battaglia contro questo virus che ci sta facendo tanto penare.